Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi voglio parlare, tanto per cambiare, di quella che sarà la squadra dell'anno prossimo, la Juventus 2022-2023. Perché oggi cerchiamo di affrontare questo argomento in qualche diretta, in qualche post su Twitter, qualche anche video qui su YouTube, qualcosina avevo iniziato a dirvelo. Credo che sia giunto però il momento di approfondire completamente il discorso. I giornalisti, quasi tutti quelli più informati sui fatti, parlano di una Juventus che andrà verso il 4-3-3. Ma secondo voi il 4-3-3 è davvero l'idea che ha in testa l'allenatore della Juventus, che dovrebbe essere confermato quindi al 100%, dato che non abbiamo indicazioni in questo verso, quindi Massimiliano Allegri. E ancora, Di Maria, allora dovesse essere acquistato dalla Juventus. Dove verrebbe poi utilizzato? Perché secondo me qua si aprono alcuni ragionamenti tecnico-tattici che vanno a inquadrare perfettamente quella che è la figura attuale di Massimiliano Allegri. E quindi vi ripongo la domanda. Secondo voi davvero Allegri sta per utilizzare o vorrà utilizzare un 4-3-3? Cerchiamo di fare un viaggio all'interno del tempo per immaginare quella che potrebbe essere la Juve del futuro. Allora, ho iniziato a portarvi alcuni esempi di 4-3-3 schierati da Massimiliano Allegri. Ho scelto alcune partite iconiche, nel quale poi Allegri ha utilizzato questa formazione. Questa è la prima partita di Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium da giocatore della Juventus. Stiamo parlando di Juventus-Lazio 2-0. Questo è un frame preso dal gol di Mario Mazzucic. La Juventus di Massimiliano Allegri era schierata in questo modo, un centrocampo a 3 e 3 giocatori davanti. Quando parliamo ovviamente di formazioni, dobbiamo sempre fare una distinzione tra fase di possesso palla e fase di non possesso palla, perché solitamente nelle due fasi abbiamo poi delle rotazioni, in base a quello che chiede l'allenatore. Quindi quella che vi ho mostrato qui a fianco è la Juventus di Allegri 4-3-3 quando attacca, quindi in fase di possesso palla schierata in questa posizione. E in fase di non possesso? Beh, molto semplice. Chi segue da tanto i miei video saprà perfettamente che questa è l'idea di Allegri in fase di non possesso palla, quindi 4-4-2, semplicemente Matuidi, che faceva la mezz'ala di sinistra, si allarga per prendere l'ampiezza, Bernardeschi, che faceva l'ala di destra, scende per formare un 4-4-2 perfettamente equilibrato in fase di non possesso. Come vediamo non è niente di incredibile, niente di spettacolare, è semplicemente un giocatore che si allarga e un giocatore che si abbassa, per lasciare due attaccanti lì davanti che vanno un po' a rompere le balle ai difensori che fanno partire l'azione da dietro. Semplicissimo, niente di assurdo, non ci siamo inventati niente. Questa invece è la partita che Allegri ha etichettato come forse la migliore partita che ha avuto come allenatore della Juventus, che ha giocato come allenatore della Juventus, il centrocampo è lo stesso e possiamo vedere cambia l'attacco per due terzi, Manzukic rimane, in questo caso Manzukic in fase di possesso palla faceva l'ala di sinistra con i goi in centro avanti da Glass Costa a destra. Poi sulla difesa possiamo parlarne o non parlarne, quello non cambia perché quando si gioca 4-4-2 o 4-3-3, comunque una difesa 4 più altri 6 uomini avanti, Allegri non fa dei movimenti con la difesa come invece, ricorderete, che faceva Pirlo l'anno scorso, dove si impostava a 3 e si indipendeva a 4. In realtà Allegri anche lui quest'anno ha utilizzato Danilo che stringeva per impostare a 3, però stiamo cercando di andare un po' oltre e immaginarci quello che potrebbe essere appunto il 4-3-3. Come potete vedere anche qui un tridente naturale, bene o male i giocatori nelle loro posizioni, poi Manzukic lì non è la sua posizione ma Manzukic e Allegri è stato schierato praticamente ovunque e in seconda battuta, in fase di non possesso, ancora una volta Matuidi si allargava e Douglas Costa andava un pelo più indietro e si faceva la fascia a destra, quindi anche qua niente di spettacolare. Questa foto è storica e questa foto è anche maledetta perché Quadrado e Pogba potrebbero essere giocatori della Juve l'anno prossimo e Dybala e Morata potrebbero lasciare dopo essere stati giocatori della Juve in questa stagione con Quadrado dove mancava Pogba, quindi questo continuo cercare di ricreare questo quartetto senza mai riuscirci effettivamente. Ancora una volta Morata, Manzukic e Quadrado, Manzukic sempre presente in queste formazioni, cambiano ancora una volta gli altri due giocatori, centrocampo a 3, Hernanes, Sturaro e Pogba, pensate ad andare a giocare l'Etiad contro il City con questo centrocampo e vincere per 2-1. Andiamo a vedere come era schierata la Juventus in fase di non possesso, semplicissimo, ancora una volta Pogba allargava a sinistra, l'ala a destra veniva giù, quindi Quadrado e andava a fare il centrocampista lasciando Morata e Manzukic davanti. Quindi abbiamo visto alcuni esempi di alcune partite iconiche giocate da Massimiliano Allegri col 4-3-3 e abbiamo visto qual è la sua idea di calcio in fase di possesso e in fase di non possesso. Apriamo un dibattito, questa è una foto pubblicata da Pogba e Matuidi proprio qualche giorno fa, ieri, addirittura nella giornata di ieri, e mi vengo a dire il famoso 4-4-2 storto di cui si parlava quest'anno con Rabiot largo a sinistra non è nato appunto in questa stagione, ma è sempre stato il modo di difendere delle squadre di Allegri, ve l'ho appena dimostrato. Pogba e Matuidi sono sempre stati gli interpreti migliori di questa fase di non possesso e io vi giuro che tutte le volte che ragionavo su un giocatore da mettere lì a sinistra in grado di fare quello che facevano Pogba e Matuidi, per non essere rabbio dato che quest'anno ha funzionato poco, continuavo a pensarci, a pensarci, a pensarci e non mi veniva in mente nessuno se non Pogba stesso. Quindi se dobbiamo fare questa cosa e se Allegri vuole riproporre questo modo di difendere allargando una mezzala, probabilmente Pogba è il profilo migliore in assoluto. Tra l'altro fa ridere perché io ricordo le prime partite in cui iniziavo a ragionare un po' più sotto il punto di vista tattico e mi ricordo un Juventus-Napoli in cui Pogba si allargava, faceva 4-4-2, forse addirittura è quello di Zaza, gol di Zaza all'ottantottesimo, dovrebbe essere proprio quel Juventus-Napoli lì e non mi spiegavo il motivo per cui Pogba rimaneva in quella posizione di campo. Probabilmente ad oggi la risposta è che il Napoli ha avuto tanto più possesso palla rispetto a noi e quindi abbiamo visto Pogba in quella posizione perché in quella partita specifica stavamo subendo in particolar modo il Napoli, quindi eravamo più che altro in fase di non possesso palla piuttosto che in fase di possesso palla. Quindi Pogba, secondo me, l'altro giorno io su Twitter scrivevo ho una cosa da dire su Pogba ma non la dico perché sennò viene giù tutto e questa, cioè Pogba è in fase di non possesso palla, preparatevi, farà quello che ha fatto Ravio quest'anno e non sarà una cosa in cui Allegri qua è impazzito, è arrugginito o non l'avrebbe mai fatto, no, l'ha sempre fatto. Questo ve lo dico già da ora, già da oggi, così mettete l'anima in pace dovesse arrivare Pogba, molto probabilmente, non dico il 100% perché poi Allegri potrà inventare qualcosa di diverso, però molto probabilmente farà questo. E allora vi dico, sempre, cioè quando dico sempre, sempre, questo è un frame preso dalla finale di Champions, giocata a Cardiff dalla Juventus, questa era la formazione titolare guardate un po' come si difendeva 4-4-2, ve l'ho proprio fatto graficamente vi ho messo i 4 centrali, i 4 difensori, i 4 centrocampisti, i 2 attaccanti lo vedete, è esattamente lo schema qua, ma quando dico sempre, intendo sempre cioè anche a Berlino, questa è la disposizione in fase di non possesso palla quando giocavamo a Berlino, è esattamente, sempre, sempre, sempre la stessa cosa quando la Juventus non ha giocato con la difesa 3, ha fatto questo e aggiungo c'è un altro momento in cui la Juventus in realtà non ha fatto esattamente questo che è quando Allegri ha schierato un vero e proprio tridente puro perché come possiamo vedere, fino adesso quando c'è stato schierato un tridente o un rombo come in questo caso, c'è sempre stato un giocatore che non faceva esattamente quella cosa lì, mi viene da dire Quadrado, Douglas Costa, Mandzukic o appunto Vidal quindi che cosa succede? questa dovrebbe essere adesso una sorta di formazione secondo i rumor di mercato lasciate stare se non vi piace, se vi piace, che c'è chiesa, quello che volete immaginiamoci questa Juve, no? dato che si sta andando in questa direzione qua 4-3-3 e allora vi dico, secondo voi Di Maria per quello che abbiamo visto verrebbe schierato in quella posizione lì vi do un indizio solitamente l'attaccante che poi rimane avanti è quello che Allegri schiera a sinistra o tutto al più dietro la punta quindi Morata, quindi Mandzukic, quindi Cristiano Ronaldo o Dybala se faceva il trequartista con Mandzukic che si allargava però l'idea di dipendere 4-4-2 rimaneva la medesima con la scalata a sinistra quindi con allargare il centrale di sinistra la mezzala di sinistra e far scendere l'ala destra quindi in questo caso significa andare a difendere in questo modo secondo quello che abbiamo visto fino adesso secondo quello che è lo storico di Allegri secondo me no secondo me non sarà questa cosa qui Pogba a sinistra sì Di Maria a destra tutta fascia in fase di non possesso per quanto mi riguarda, secondo me no e allora vi dico come potrebbe essere Allegri tante volte ci ha detto che preferisce chiesa a destra e quindi mi immagino verosimilmente piuttosto un tre dente con chiesa a destra Di Maria a sinistra con chiesa che scende Pogba che si allarga questa potrebbe essere una delle opzioni qualora fosse invece necessario avere Di Maria a destra per farlo rendere al meglio e mantenere magari chiesa a sinistra che a me piace comunque tantissimo destra a sinistra ma in chiesa non cambia niente perché se a sinistra si accentra e tira se a destra la mette in mezzo quindi in un modo o nell'altro chiesa sarà decisivo quando tornerà vi auguriamo di tornare il prima possibile al meglio potrebbe allargarsi Zaccaria e quindi fare semplicemente la scalata a destra cosa che non abbiamo ancora visto fare o comunque magari l'abbiamo visto raramente perché abbiamo visto si allargava sempre la mezzala di sinistra e mai la mezzala di destra queste sono due opzioni che provo a darvi con la formazione titolare gli stessi 11 che vi ho messo prima e allora vi dico da un paio d'anni praticamente da poco prima dall'arrivo di Pirlo ho iniziato a studiare un po' di più gli storici degli allenatori per capire un po' dove stavamo andando e osservando le formazioni del passato abbiamo la possibilità di passatemi il termine indovinare quelle che verranno in futuro Allegri prima di iniziare questo percorso mi sembrava molto meno integralista rispetto a quello che effettivamente è e mi riferisco alla fase di non possesso perché è vero come è vero che Allegri ha utilizzato diversi moduli il 4-3-3 il 4-4-2 il 4-2-3-1 il 4-3-1-2 a volte addirittura la difesa 3 però una cosa quasi sempre rimaneva invariata e cioè la difesa col 4-4-2 con due linee da 4 a centro campo a costo anche di muovere qualche giocatore in qualche ruolo particolare per questo che tante volte si dice che Allegri mette dei giocatori fuori ruolo in quel momento a lui serve quel giocatore in quella posizione lì per attuare una fase di non possesso 4-4-2 e quindi vi dico è sempre stato così? no perché vi dicevo c'è anche un'eccezione che partita è questa? la prima partita di Vlaovic e Zaccaria in bianco-nero Juventus Verona 2-0 gol di Vlaovic e Zaccaria tra le altre cose e la Juventus ha giocato in questo modo qua 4-3-3 4-3-2-1 chiamatelo come volete con Morata e Dybala esterni del tridente quindi questo è un vero e proprio tridente pesantissimo perché sono esattamente tre attaccanti non ci sono esterni cioè sono proprio tre attaccanti tre giocatori puramente offensivi e perché Allegri ha fatto questa cosa? perché l'Elas Verona giocava con una difesa 3 Vlaovic Morata Dybala rimanevano alti in pressione sui tre centrali dell'Elas e la Juventus non difendeva più 4-4-2 la Juventus difendeva uomo su uomo 4-3-3 e quella è stata una forse delle partite più belle della Juve di quest'anno e non credo che sia una coincidenza perché la squadra come ce l'avevamo quest'anno probabilmente non era adeguata a difendere in quel modo molto passivo con delle linee anche molto basse perché un conto è difendere in un modo nel senso 4-4-2 un altro conto è essere prendimenti in attesa prendimenti passivi prendimenti bassi sono due cose differenti non è che se difendi 4-4-2 è sempre sbagliato l'abbiamo visto l'abbiamo fatto nei percorsi che ci hanno portato due volte in finale di Champions quindi significa che ha funzionato è il modo in cui abbiamo affrontato la fase di non possesso la fase difensiva quest'anno che non ha funzionato lo vedremo anche poi dopo perché tante volte si dice sì però la Juve quest'anno ha fatto pochi gol però la difesa no però la difesa niente ma lo vedremo quindi questa è stata una delle partite secondo me più belle della Juve e non è un caso anche quella con l'Inter per dire dove giochiamo 4-2-3-1 con Morata di Bale Quadrado dietro Vlaovic era una squadra che si difendeva 4-4-2 ma a trazione anteriore andava in pressing e questa Juve di quest'anno e tante volte l'ho già detto non era classica Juve degli altri anni che amava difendere che parola di Allegri godeva nel difendere questa è una squadra che non godeva nel difendere questa è una squadra che probabilmente godeva nello spingersi là e che non aveva nemmeno la potenzialità di fare chissà quanti gol ma sicuramente poteva fare meglio rispetto a quello che è stato fatto con un pizzico di coraggio in più che è mancato ed è il video che ho fatto l'altro giorno in riferimento proprio a Massimo Emiliano Allegri la stagione appena conclusa e allora vi dico Perisic è molto vicino al rinnovo con l'Inter lo sappiamo leggiamo tutti le notizie di mercato quindi non c'entra niente però questa è un'altra opzione o la difesa in fase di non possesso con i tre attaccanti che rimangono alti magari due sui centrali uno sul regista perché poi in fase di non possesso puoi metterti un po' come ti pare prendi l'uomo prendi la zona insomma quello dipende però io mi immagino anche una formazione di questo tipo ora messo Perisic perché si è parlato di Perisic è un giocatore che lì ci potrebbe giocare benissimo questa mi sembra una formazione per quanto mi riguarda bellissima questa è una formazione splendida davvero mi piacerebbe un sacco giocare così immaginatevi magari un giocatore al posto di Perisic che fa l'esterno sinistro e immaginatevi questo 4-2-3-1 perché secondo me Di Maria sarà un attimo più esente dai compiti in fase di non possesso per non stancarlo particolarmente e tra l'altro io mi immagino Di Maria al centro della squadra quel giocatore in grado di far girare la squadra e dare qualità negli ultimi metri aumentare la possibilità di rifinitura di questa Juve ma soprattutto che riesca a imbucare Vlaovic per via centrali in profondità perché è questo in cui è bravo Vlaovic attaccare la profondità e l'abbiamo visto con Di Bala molto spesso in questa stagione quando Di Bala e Vlaovic andavano a dialogare nasceva qualcosa di pericoloso per la Juve quindi io mi immagino Di Maria dietro Vlaovic in modo da poter giocare dentro il campo o se giocherà largo a destra un giocatore che entra tanto dentro il campo Di Maria deve giocare dentro il campo non può fare l'esterno rimanendo largo Di Maria deve giocare dentro il campo quindi se metti altri due esterni che rimangano larghi Di Maria lo lasci lì a girovagare per il campo e a fare quello che sa fare meglio e cioè aggiungere tanta qualità alla squadra termino con questo meme che ho postato anche su Instagram un po' dappertutto non so se avete mai visto Scrubs credo che sia una delle serie migliori che sia mai state fatte e l'Allegri 1 la prima avventura di Allegri mi sembra Scrubs la stagione appena conclusa della Juventus mi sembra appunto l'ultima stagione di Scrubs che è stata una schifezza unica veramente uno schifo totale e mi sembra esattamente la stagione della Juventus di quest'anno e allora vi porto dei dati una conferma di quello che vi sto dicendo Allegri Juve partite giocate e gol fatti subiti con la media dei gol fatti tra parentesi quindi primo anno abbiamo fatto 57 partite 104 gol abbiamo subito 40 una media di 182 e questa cosa la vai a riproporre per tutti gli anni focalizziamoci solo sulla media dei gol fatti su partite giocate e notiamo che le ultime due stagioni di Allegri sono in calando già l'ultimo anno con Ronaldo sono stati fatti solo 87 gol quando l'anno prima ne sono stati fatti 112 con una media di due gol e 07 ecco quando sento che dopo Cardiff il ciclo di Allegri era finito io ricordo benissimo quella stagione dopo Cardiff e la Juve di Allegri era ancora una signora squadra che va a giocarsela come abbiamo visto al Bernabeu e per poco non elimina il Real al Bernabeu in una partita incredibile in una rimonta incredibile una squadra che è la miglior squadra di Allegri sotto il punto di vista dei gol fatti in assoluto quindi io cerco sempre di sfatarla questa cosa di Cardiff perché secondo me non corrisponde a realtà secondo me il vero e proprio declino inizia l'ultimo anno dove una squadra del genere e con Cristiano Ronaldo non ha saputo rispondere a quelle che erano le aspettative di quel momento lì quindi secondo me il declino inizia lì l'ultimo anno di Allegri dove poi addirittura appunto viene l'esonero e il cambio in panchina che ribadisco secondo me era giustissimo ma quest'anno abbiamo sfiorato il ridicolo abbiamo fatto 70 punti in Serie A in tutte le competizioni abbiamo fatto 80 gol e ne abbiamo subiti 55 significa aver preso più di un gol a partita più di un gol a partita subito con una fase di non possesso palla passiva e bassa che doveva aiutarci semplicemente a non prendere gol e che non ha funzionato e che ha completamente limitato la nostra fase offensiva dove si è riusciti a segnare 1.54 gol a partita il dato più basso in assoluto di tutte le stagioni di Allegri come allenatore della Juve e quindi Scrubs non voglio che sia l'ultima stagione scuola di medicina e quelle puttanate lì dato che Massimiliano Allegri avrà un altro anno di contratto altri tre anni di contratto con la Juventus e almeno un altro anno d'allenatore della Juventus e dato che so che cosa può dare Massimiliano Allegri gli chiedo quel coraggio in più che ha mostrato quando ha messo quattro centrocampisti in campo tutti e quattro che ci ha portato a Berlino gli chiedo quel coraggio che è servito il secondo anno per rincorrere quella Serie A e vincere quello scudetto dopo il gol di Sansone a Reggio Emilia quando sembravamo morti quel coraggio che ha avuto a gennaio Juventus Lazio nel mettere insieme quattro attaccanti che ha continuato ad avere l'anno successivo dove realizza 112 gol in 54 partite sempre con lo stesso metodo di gioco lo stesso gli stessi gli stessi approcci gli stessi ragionamenti e di non avere più quel braccino che ha iniziato a avere l'ultimo anno e che ha portato a salutare la Juventus e assolutamente di non avere il braccino che ha avuto in questa stagione poi contestualizziamo ci sono sempre state squadre diverse livelli diversi delle squadre ma quello che abbiamo visto quest'anno non è giustificabile nemmeno con una squadra di livello inferiore rispetto a quelle del passato la Juventus può ma soprattutto deve fare di più e Massimiliano Allegri può e soprattutto deve fare di più perché anche da questo poi passa la ricostruzione e ricreare quella famosa mentalità vincente che mai come quest'anno secondo me è venuta a mancare grazie a tutti Grazie a tutti